Ciao ragazzi, bentornati nel stesso video. Allora ragazzi, in questo video non vi vedete sulla postazione, anzi, essa è le mie spalle, ma vi vedete al centro della stanza, a quattro simile tappeto, perché in questo video vedete due cose in una, ovvero vi mostrerò più veritatamente il mio nuovo divano, il fantastico regalo che ho ricevuto per la maturità, dato che ho appena finito di dare, quest'oggi ho appena finito di dare l'ultimo lale, quindi adesso sono ufficialmente in vacanza e non dovrò più pensare alla scuola o agli esami, ma solamente nell'està. Due invece vi mostrerò delle candele che ho questo da coin sfruttando con una fantastica offerta. Direi seguitissimo di partire con l'usia aristotelica del video. Ecco qua ragazzi, ho voluto dedicare una cosa importante come la mia passione per le candele all'interno di un'altra grandissima passola che ho, ovvero quella per l'aredamento ricercato e sofisticato. Quindi, in poche parole, in questo video vi vorrei mostrare il mio fantastico divano preso da Maison du Monde e regalato per l'esame di maturità, che ho appena finito di sostenere proprio oggi, ma questo è arrivato, diciamo, in anticipo, in puro velluto color terra di siena. Se vi interessa, ragazzi, se lo faccio vedere più da lontano, il modello si chiama Elvis e il prezzo è di 428€. Una cosa bella di questo divano è che può diventare un letto, questi schienari si possono reclinare e diventa un vero proprio letto. Ma, soprattutto, ragazzi, la cosa più bella, la cosa che mi fa svegliare, la cosa che veramente ha veramente quel plus valore marxista e che ha anche un progetto di Asksis, il levamento verso l'enosis assoluta, è che è fatto di velluto. Questo effetto che può veramente giocarci con il materiale super soffice, super morbido, io amo le cose morbide, mi fa impiazzire e anche il fatto che sia molto, molto, molto caldo. Perché, ragazzi, se non sapete, il belluto è un materiale molto isolante, è il calore, quindi, d'inverno, con gli autisti col freddo da morire, è veramente una soluzione ideale perché mi crea un tepole sotto la schiena e il vero lombare che diventa veramente poi piacevole per l'eco del soggetto quando sta a rilassarsi. Bene, ragazzi, e adesso, dopo aver fatto una panoramica del divano, vi mostro l'offerta che ho fatto. Di cui ho soffritto da coin. Vedete al centro del divano, proprio nelle due giunzioni dei cucinoni, questa fodera perché, appunto, il velluto materiale, l'unico ripeto che ho avuto, ragazzi, è che è un materiale molto fragile e non va assolutamente, per nessun maggior modo, danneggiato oppure, non va assolutamente rovinato. Quindi, io, per sicurezza, ci ho messo questa fantastica fodera che mi protegge il velluto da eventuali urti. Adesso, però, passiamo alla sostanza di quello che è il conto di questa busta. Perché ho stupendo, ragazzi, che i coin, fino al 30 giugno, hanno un'offerta su 20 grandos, quelle piccoline, su quelle mignon, ovvero che se ne prendi 4, le paghi 13 euro, anziché 16 euro. Vabbè, la cifra non è ridotta ai minimi termini, però, è comunque ridotta, quindi l'ho approfittato. E ho preso dei gusti abbastanza rari. Mi prendo in mostro, invece, una cosa, una new entry che non è in offerta, bensì è appena arrivata. La fragranza per ambienti, formato diffusore per ambienti, della Yankee Candle, una new entry assoluta. Questi qua passano tutti qua nel 7,90, che per essere una fragranza ufficiale Yankee Candle, devo dire che è un prezzo non adeguato, più che adeguato, secondo me. Io, ovviamente, ho preso la più buona che c'è, perché, ovviamente, in diffusore per ambienti, ragazzi, voglio la fragranza Yankee Candle più buona che c'è. E per me la fragranza buona che c'è di Yankee Candle è, appunto, la ciliegia nera. Quindi non devo più comprare le candele adesso, ma per una vita, perché oggi sono 10 ml, avrò la fantastica ciliegia nera. E fidatevi che passano anche pochissime con questa fragranza qua e avete una profumazione eccelsa e lussuriosa all'interno della vostra stanza. Soprattutto molto lussuosa. Poi, ragazzi, la vera sostanza del video sono, appunto, queste quattro Yankee Candle. Eccole qua, ragazzi. Ho bisogno di prendere due Mini Candle alla Fresh Cut Rose. Che è una fragranza veramente che sta da scomparire, ma è veramente buonissima perché sa proprio di vera ed essenza di rosa. Qua è come se avessero preso una rosa e l'avessero trasportata all'interno della candela. Io questa fragranza la ce l'ho provata in passato e fidatevi, sa veramente tanto, tanto di rosa. Quindi non ve la consiglio, perché ci sono queste due, così almeno una termine collezione e una l'accendo. Invece, da adibire all'accensione, ho preso il mango ice cream, tirato al mango che l'ho già provata, è veramente delizioso. E poi questa qua, che io amo alla follia, è nuova. Si chiama Ice Berry Lemonade e sarà più di limonata e con un vetro gusto anche di fragola, eccetera, di urlo. Veramente, veramente, è pazzesca. Bene, ragazzi, che direi, spero che la mia offerta di Yankee Candle, e soprattutto spero che il nuovo diffusore, cioè ricarica per il diffusore, per l'ambiente, vi sia piaciuto. Soprattutto spero che il divano vi piaccia, perché a me ne fa impazzire. Fatevi spero nei commenti cosa ne pensate. Ci passero molte serate in questo divano, anche perché secondo me il divano in un studio è un elemento veramente portante, dato che è un elemento che puoi godere al massimo. E fidatevi, ragazzi, io ci sto veramente ore, ore, ore e ore sul divano. Quindi sono contentissimo degli investimenti che ho fatto, e sono contentissimo del regalo che mi hanno fatto, perché mi sto regalato questo divano. Me lo sono pregato io prima di sfondi, ma poi mi ritornano indietro, dato che è appunto un regalo per l'esame. Quindi sono super contento di questo. Perché il divano è un elemento importantissimo, e soprattutto per l'uso che ne faccio io, e ovviamente è preparato all'uso che ne faccio, quindi un uso assai elevato. La mise en place dei cuscini è la tale, perché appunto così deve essere. E soprattutto l'effetto che fa è veramente apoteosico. Niente, per io ragazzi, se ne spavano nei commenti cosa ne pensate del divano, cosa ne pensate anche dell'offerta. E niente, seguite questo video, ti like, ti seguite il canale, e non ci vediamo al prossimo. E in questo momento io ho bella ragazzi. Grazie.